I Monti Pelati insistono su una parte della città di Castellamonte, principalmente sulle frazioni di Campo e Muriaglio. Noi riteniamo questo parco una grossa opportunità per i cittadini. Devo dire che qualche anno fa era molto meno gettonato. Ultimamente i cittadini invece stanno valorizzando questa parte di territorio, anche perché i panorami sono veramente belli e quindi c'è tanto verde. Ultimamente gli sport, l'outdoor sta prevalendo sullo stare in città, per cui questo fa gioco forza a favore di questo territorio. Siamo orgogliosi e vogliamo potenziare questo parco.